Buon salve e benvenuti all'assunto dell'Inside Star Citizen del 23 settembre e del 30 settembre Iniziamo subito Stanno sperimentando per inserire dei lucchetti nelle casse Lucchetti che si potranno aprire a volte usando lo strumento cutter del multitool Oppure trovando la combinazione in giro Da come hanno detto non sembra che saranno disponibili in entrambi i modi O almeno quello che mi è perso di capire Ma dipenderà dal tipo di cassa Hanno rifatto vedere le mine L'intenzione è che le casse si danneggino poi se colpite Comunque dalle mine oppure potenzialmente anche da altri elementi di danno E poi l'idea ovviamente è quella di collegare il tutto ai danni fisicalizzati Hanno anche un po' sperimentato per le reazioni a catena Hanno rifatto la schermata del fleet manager in building blocks Con tutti i miglioramenti che ciò comporta Hanno fatto delle schermate di disconnessione per i vari schermi Hanno fatto vedere le prime versioni per le interfacce Per i gadget del mining Che vengono questi gadget appunto applicati alla roccia Settati e poi applicano il loro effetto Hanno fatto vedere dei concept per il vestiaio modulare Dei commessi e degli impiegati NPC Stanno lavorando ad una funzionalità Che permette di far comparire degli elementi aggiuntivi estetici dell'armatura Solo se questa presenta tutti i pezzi necessari È un sistema che hanno trovato per avere maggiore varietà artistica Mantenendo il sistema modulare Hanno fatto vedere l'armatura specialistica leggera RRS Che ne arrivo Stanno lavorando all'inquadratura per quando si egetta dalla nave Hanno fatto vedere l'effetto di intoxicazione Per quando si guida un veicolo o si è in torretta Hanno fatto vedere un po' la RRS nelle sue due varianti Hanno fatto vedere la Redeemer Hanno mostrato il nuovo Glossera Che permetterà di risparmiare risorse Per gli interni sono un po' indecisi Se lasciare l'animazione per i pistoni Magari ne metteranno una meno invasiva Oppure rimarranno statici E non come qua in video Hanno mostrato la Vulture attualmente in grey box La Hool A O Hool A È in white box Rispetto al concept hanno cambiato alcune cose Per lo più in relazione alle metriche Stanno rivedendo anche la metrica per i bagni Nello specifico hanno parlato della Hool A Sempre Hool A Seconda di come la volete pronunciare insomma Però penso che si applichi poi anche alle altre navi Perché si sono resi conto che gli NPC avranno bisogno di più spazio Per poter interagire con i bagni Hanno un po' messo mano alla Hool C Aggiornando alcuni elementi che rimasti a vecchie tecnologie Come il Surface Shader Hanno spostato Olisar finché si potesse muore con Crusader Nella T-14 Olisar aveva ancora una posizione statica Passando all'Inside Star Citizen del 30 settembre Bombe nel Verse Tutti pronti a portare a democrazia Nell'ottica bilanciamento le bombe vanno ad inserirsi come nemico naturale Delle posizioni difensive come torrette o tonk Vogliono che colpire il nemico sia comunque una questione di skill Si accede all'operatore delle bombe in maniera identica all'operatore dei missili Con la differenza che vi sarà un cerchio che indicherà dove finirà la bomba Funziona così Si potrà selezionare un punto di riferimento E a quel punto l'interfaccia vi dirà dove muovervi per colpire Avvicinandovi comparirà un secondo cerchio Che rappresenterà il punto di arrivo vero e proprio della bomba Se sarete precisi colpirete il bersaglio Sappiate comunque che vento e altri fattori potrebbero incidere sul tragitto della bomba È un oggetto fisicalizzato, un oggetto che può essere influenzato da altri fattori In futuro vogliono far sì che l'operatore lanci le bombe Guardando da una camera da remoto sotto la nave E non dalla postazione di pilota copilota Questo perché in navi come la A2 si suppone che ci sia una postazione dedicata al lancio delle bombe Su un tema La seconda parte dell'Insider Star Citizen è stata invece dedicata ad un recap complessivo Delle novità della 3.15 Ferite, medicine, ospedali Il passare allo stato di downstate quando si scende a zero o meno di vita Il tasso di sostanze nel sangue L'alcol compreso con i suoi relativi effetti Il nuovo sistema di inventario localizzato App relativa per far capire dove abbiamo messo cosa Nuovi tipi di missioni FPS Infiltrati e difendi Porterà poi la Hercules A2 con l'operatore di bombe Ci sarà il rework delle mappe di Arena Commander E avremo anche dei nuovi duoghi su Horizon Per quanto invece riguarda la Ares nelle sue due varianti La Redeemer Dovremo invece aspettare l'Expo Quindi una 3.15.1 idealmente E ultima informazione Sono finiti gli Inside Star Citizen della stagione Salvo sorprese ci sentiamo per il CitizenCon In ogni caso Inside Star Citizen Riprenderanno Probabilmente Non l'hanno detto Ma in teoria hanno sempre fatto così Fra una ventina di giorni Forse anche un mese Insomma dipenderà da come Come la vogliono gestire E con questo abbiamo finito Qui a Marco Sars E ci sentiamo al prossimo video No 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 Aspettate un attimo Ci sentiamo al CitizenCon A presto A presto